Siamo qui in un nuovo video Come avrete già letto dal titolo Siamo nella gita a Firenze Siamo ancora alla stazione di Ponte d'Era Sono le 7.37 di mattina Quindi io ora schiocco le dita Ma che cazzo vuoi? Questo canale è di meganarchi Iscrivetevi E quindi io C'è Mioverall Qua c'è Miki Quindi io schiocco le dita E ci ritroviamo direttamente sul treno Sono in treno Siamo già in movimento raga Diretti verso Firenze Noi ci vediamo appena arriviamo a Firenze Noi abbiamo perso un pezzo di classe Anche la prof Siamo arrivati a Firenze Qua c'era il treno Quindi C'è una mia compagna che mi rompe Ecco non va bene questa cosa E siamo a Firenze Stiamo seguendo la prof Ci siamo divisi in due gruppi Quell'altro è dietro E quindi Ora Vi racconto due cose Come avete visto Sono riuscito a montare il video Con VidTrim E E usatelo Se la intro vi piace Me l'ha fatta la Dali Mi sta guardando male Sono in pubblico Alla stazione di Firenze raga Ci vediamo appena c'è qualcosa di interessante Non ci posso credere Ecco l'auditore Ecco l'auditore conferma Questa è dove ci sono le catacombe Non vedete bene Ma questo è il mure dove entri C'è il giardino della chiesa E ci sono le catacombe raga È troppo bello Davide io ti seguo tantissimo Sono un tuo fan Oh un mio fan ragazzi Oh anche io sono tuo fan No è troppo bello Guardate la chiesa Invece di farvi selfie Non è un selfie Non le vanno 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 Ok proprio Ci vediamo ai Ufizi Ci vediamo appena c'è qualcosa di interessante Da farvi vedere raga A vederci Ah qua c'è un'altra 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 raga C'è il Davide Un'altra roba di Assassin's Creed Non mi ricordo cosa sia Aspettate ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere Tipo sono le prigioni dove È rinchiuso il babbo Quando viene rinchiuso il babbo di Ezio Insomma ve lo faccio vedere È fantastico Bellissimo Quindi Questa roba E Alla prossima cosa figa Raga 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 Non avete idea Tutti 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 Questa cosa sta diventando sempre più Assassin's Creed 2 confirmed Guardate il Duomo Intanto c'è la gente di Pasma E ora dietro al Duomo c'è il campanile di Giotto Tanta roba Troppo bello raga Cioè veramente Siamo nella mappa di Assassin's Creed 2 Questa cosa è eccitante Poi ragazzi Quando arriviamo agli uffizi Davide a concludere il video Comunque io vi Sono meccato E mi smetti di spingere di qua Ammazza Oh riprendi il battistero Ecco attenzione raga Stiamo per vedere il campanile di Giotto Campanile di Giotto Eccolo qua raga 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 What the fuck agli uffizi Campanile di Giotto Tanta roba Aspetta What the fuck agli uffizi Troppo bello raga Cioè Adesso Appena Quando arriviamo agli uffizi Ti riprendi No aspetti E poi anche quando mangeremo E roba così Quindi Appena c'è qualcosa di interessante Ci rivediamo Raga Siamo fuori dalla galleria degli uffizi Ciao Sì di nuovo C'è ancora lui Mega Dark Insomma Ok Se ne trebuto un nome Cioè cambialo E poi comunque Siamo fuori dalla galleria degli uffizi Guardate Mi vettete al porco Il cuore L'estato di Dante Avete letto E Dante Ci vediamo dentro raga Raga Scusate tanto Però Non sono riuscito A portarvi il vlog Dentro gli uffizi Perché Non si poteva Cioè potevi solo fare le foto Siamo sul terrazzo Area di sosta degli uffizi È troppo bello Guardate Troppo bello È qualcosa di spettacolare raga Ho fatto la mia esposizione Interno al mio gruppo Tanta roba Guardate tutti questi piccioni E poi c'è C'è un tizio Che mi massaggia E poi Ah vlog nel vlog Troppo bello Vlog nel vlog Raga Qua c'è Cicciotto Che fa un vlog E qui c'è Pires Che fa un altro vlog Passate al suo canale Passate dal canale di Ciccio No no Non voglio andare in bagno Quindi raga Ci rivediamo fuori dagli uffizi Yeah Coccodia Raga Siamo appena usciti Dagli uffizi Finalmente dopo due palle così Ma ora intere No davvero Sono stanchissimo E è incazzato Quindi ora non lo so Fermo Quindi ora faremo qualcos'altro a Firenze E ci vediamo appena facciamo qualcos'altro Tipo quando si pranza Ciao Ciao Che culo Che culo Che culo Che culo Che ho fatto Stiamo mangiando Oh yeah Sempre nello stesso posto Non ci siamo sui Torni e maionese Mi dai un sorgso Coca Mi dai un sorgso Appena un sorgso Mi dai un sorgso Mi dai un sorgso Mi dai un sorgso E dopo aver pranzato Ora si ve lo do Dopo aver ruttato Ci vediamo Ci vediamo Raga 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 Siamo nel punto Avete presente quando uccidete il traditore Che ha fatto uccidere vostro padre Quell'altro lì Su Assassin's Creed 2 Siamo nel punto Questa è la chiesa E lì c'è il cortile È troppo bello raga Queste cose sono Sono belle Ecco lì il cortile Guarda lì c'è la porta Quindi ci vediamo Alla prossima cosa figa Guarda siamo sul treno Per il ritorno Mi incontro anche a me E quindi Questa giornata bella è finita E Siamo stanchissimi Sì E quindi noi adesso Torniamo a Ponte d'Era Si va per il sacco E quindi Spero che questo vlog Vi sia piaciuto Come al solito Vi ricordo di lasciare Tanti 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 Pollicioni in su Se volete altri vlog Di questo genere Poi venite di condividere il video Iscrivervi Se non l'avete ancora fatto E commentare Bella raga Ciao No E perché Ciao Ciao Grazie a tutti.